Dottor Crisci, parliamo oggi di una tecnica in uso a chirurgia toracica e all'ospedale Mazzini da Tempo. È una tecnica che riguarda l'asportazione di un lobo polmonare che voi portate avanti da diverso tempo. Tante le richieste e tante le innovazioni di questa nuova tecnica. Dottore, in cosa consiste? Beh, è la Vats Lobectomy cosiddetta che consiste in un'asportazione di un lobo polmonare per neoplasia o per altra patologia che richiede l'asportazione di un lobo senza un vero e proprio taglio toracotomico ma soltanto in videochirurgia con tre accessi minimali. Questo permette una ripresa rapidissima e direi quasi indolore del paziente con una rapida dimissione. Voi in un anno più o meno quanti interventi fate? Noi abbiamo una percentuale di Vats Lobectomy del 30-40% sul totale delle lobectomie che d'altronde è la percentuale normalmente diffusa in tutto il mondo. L'indicazione deve essere precisa così come devono essere adeguate le attrezzature di cui la nostra struttura ci ha fornito, ci ha equipaggiato. E vorrei sottolineare a questo proposito il fatto che è stato costituito a livello nazionale un gruppo di studi e un registro su questo argomento di cui siamo in capofila. E questo va a tutto merito della mia equip e dovrebbe rappresentare un fiore all'occhiello per l'ASL Terramana. Il signor De Ascanis è al terzo giorno di intervento. Come si sente? Io mi sento perfettamente bene. Che problema aveva lei? Teneva un nodolino a un polmone. Certamente poi ho fatto l'esame, sono stato qua e sono venuto a fare questo intervento. Ma sapeva che qui al Mazzini c'era un reparto specifico? Sì, sapeva, aveva già l'esame, sapeva come andavo. Quindi sei partito dalla Marsica per venire qui a Terramo? Certamente sì.